Siamo con il nuovo presidente del San Martino e il vicepresidente del San Martino, Quirino Bongiovanni, Antonio Pisaniello. Finalmente San Martino non perde la storia, una società allargata che punta ad allargarsi ancora di più, ripescaggio tra virgolette quasi certo in promozione. Presidente, si rinasce e si continua a far ben figurare in Valle Caudino del San Martino. Sì, diciamo che io ho giocato in questa squadra nella polisportiva del San Martino in promozione 20 anni fa, 15 anni fa e quando mi hanno chiamato loro io ho vinto il combinato di seconda gradoria con la mia squadra, appena mi ha chiamato lui facciamo una cosa buona per San Martino e per noi, ho detto subito sì perché conoscendo la persona sono stato subito e intusiasmo di questa cosa e ho detto subito sì e finalmente abbiamo risolto, stiamo andando avanti in promozione. Vicepresidente Bongiovanni, finalmente dopo le tante lamentare l'anno scorso, un campionato portato avanti con tanti sacrifici anche se è culminato con una retrocessione immotivata e soprattutto immeritata, diciamo la verità, c'erano poche speranze, è arrivata finalmente il classico solo tra tante nuole, anche l'amministrazione comunale ha fatto la sua parte, ora c'è da programmare ma soprattutto portare avanti un campionato che deve essere fatto non come l'anno scorso, sicuramente meglio e prendendo anche elementi di spicco. Sì, la fortuna è che adesso abbiamo una società allargata, sono molte persone che hanno espresso il desiderio di darci una mano, vediamo di recuperare il tempo perso, ora ne parliamo con il presidente e gli altri componenti della società per recuperare perché ora dobbiamo recuperare i giocatori, l'allenatore, abbiamo un bel po' da fare, comunque la base di tutto perché c'è un progetto che è stato diciamo discusso in riunione, la base dovrà partire sempre da San Martino per poi prendere degli elementi validi che credo che purtroppo con tante defaianze in zona non mancheranno, cercheremo di onorare il campo come l'abbiamo sempre fatto anche l'anno scorso con tante difficoltà però qualche soddisfazione ce la siamo pur prese. Presidente, dalle parole del vicepresidente San Martino vuole rinascere, un appello ai tifosi soprattutto a chi si deve avvicinare a questa società? Sì, già ieri sera ci hanno dimostrato che ci stanno parecchio vicino quest'anno e con una squadra sola cerchiamo di unire i tifosi miei e i suoi e facciamo una bella cosa, l'anno ci sono scompini e pesanieri, l'ho fatta la seconda a braccetto, non significava io il presidente e lui vice, è uguale, sulla calcio sono io il presidente e lui vice, ieri e lui siamo la stessa cosa e cerchiamo di fare una bella cosa per il San Martino calcio e per i tifosi. Chiudiamo con una domanda sulla Valle Caudina, che ha il Cervinari in eccellenza della provincia di Avellino, il San Martino in promozione e molto probabilmente anche il Paolisi in promozione, diciamo che alla fine solo il Montesarchio per altri problemi si è smarrito però la Valle Caudina è ben rappresentata, potrebbe uscire anche la sorpresa tra queste due squadre? Sì, la sorpresa potrebbe uscire, già l'anno scorso il Paolisi ha fatto un campionato di vertice e si è perso giusto nell'ultimo periodo, noi cerchiamo di fare una bella squadra perché ci contiamo e ringrazio il presidente che mi ha dato una mano, a me, all'amministrazione, ai tifosi, cerchiamo di mettere su una squadra valida partendo sempre dagli elementi validi di San Martinesi. Sì, la sua squadra valida partendo sempre dagli elementi validi di San Martino.